Grazie Luciano, io intanto vi ringrazio per questo caloroso abbraccio di tutti i vivaci d'Italia e del mondo che siete qui, come sapete oggi è il primo giorno in cui l'Unione non ha più il Regno Unito, è il primo giorno che appunto segna la fine di uno di sé che è durata tre anni e mezzo, che ha lasciato un paese estremamente lacerato e diviso, in cui i figli non parlano ai genitori, una frattura talmente forte che ha creato un clima di tensione che porta appunto, l'ha detto Nicola Pocanzi, alla tragica assassino di Joe Cox, giovane parlamentare laborista che appunto faceva campagna contro la Brexit qualche anno fa. Noi ci siamo andati a dormire ieri, noi italiane, gli italiani del Regno Unito, noi europei, ieri noi siamo andati a dormire come appunto cittadini che abitavano in una delle parti più eccitanti, più dinamiche del Regno Unito e oggi ci svegliamo stranieri in casa, cittadini di paese terzo, a cui ci vengono sottrati i diritti, avremo in futuro bisogno di permessi di soggiorno, visti per continuare a lavorare, studiare, fare ricerca nel Regno Unito, in cui non potremo più esprimere il nostro voto alle amministrative e non soltanto per noi ma anche ai figli dei nostri vicini britannici, loro non potranno più godere della libertà di movimento nell'Europa, nei 27 paesi che rimangono nell'Unione, non potranno più muoversi liberamente, beneficiare appunto magari di telefonare in tutta l'Europa a tariffe più basse, beneficiare dei fondi di ricerca dell'Unione Europea e quindi ci perdono tutti, questo ci perdono assolutamente tutti. Ma è ovvio che da europeisti io vorrei dire all'italiano del Regno Unito che non bisogna buttarci giù, perché da oggi siamo ambasciatori del più grande progetto politico di pace e prosperità degli ultimi secoli e che quindi da oggi noi dobbiamo far vedere che appunto chi rimane in Unione Europea può rimanere un progetto serio e di prosperità e che l'Europa Unita rimane una destinazione a cui dobbiamo tendere, ma da europeisti dobbiamo anche interrogarci sul perché siamo arrivati qui, è vero il Regno Unito è un paese atipico, è un'isola, gode di relazioni globali postcoloniali uniche e gode soprattutto di una cosa che noi sul continente non abbiamo, una continuità molto lunga delle sue istituzioni politiche, ma detto questo ci mostra che il processo di integrazione europea non è inevitabile, bisogna combatterlo, bisogna difenderlo tutti i giorni senza paura ed è questa la storia della Brexit, non è solo una questione di disagio culturale, è una storia di, per come la vedo io, di disagio sociale, dell'assenza di opportunità per tutti, un'assenza di opportunità creata dal malgoverno del partito Tories austero in cui i populisti sono infilati condendo il tutto con tante, mattante, tantissime fake news come lo diceva Matteo poc'anzi e a questo la risposta è stata fallimentare dei riformisti, dei cosiddetti riformisti del Regno Unito, è la parabola di Corbyn e questo credo che sia la lezione a portare noi in Italia, ovvero che noi se inseguiamo il populismo possiamo solo perdere, perché la gente tra l'originale e le imitazioni sceglie sempre l'originale, noi dobbiamo opporre al populismo, dobbiamo difendere senza paura il sogno europeista, proporre piani seri per la crescita e le opportunità per tutti, ponendoci come forza di governo credibile e queste sono tutte le parole d'ordine dell'Italia viva, del suo riformismo radicale, che in Italia dobbiamo rivolgere a tutte le italiane e tutti gli italiani a cominciare da quei 3 milioni di ragazzi che non stanno né studiando né lavorando nel nostro paese. Ovviamente uno potrebbe dire che se c'è un dato positivo della Brexit è il fatto che l'euroscetticismo ha tramutato molti degli euroscettici d'Europa in sovranisti, veniva accennato prima da Matteo, Le Pen in Francia non dice più on par, dice on arrive, non si vuole più uscire dall'euro dell'Unione Europea, si vuole rallentare il processo di integrazione, lo si vuole congelare, lo si vuole fermare e questo è il sovranismo, lo vediamo con la FD in Germania, con la FO in Austria, lo vediamo anche in Finlandia, in Olanda, ebbene qui ovviamente lo vediamo con i paesi di Visegrad, lo accennava Sandro poco fa e anche Nicola, ma ovviamente per loro non vogliono uscire dall'euro, è troppo comodo rimanere dentro l'Unione Europea, beccarsi 2, 3, 4 punti di PIL, di fondi su tutti gli europei e dall'altra parte costruire muri contro i migranti, smantellare l'indipendenza del settore giudiziario in Polonia e quindi noi in realtà lì dovremmo veramente sospendere i fondi europei a chi sospende i valori europei, ma io credo che il messaggio più importante da portare a noi europeisti è che questa forma di euro timidezza in realtà è più pericolosa, non è meno pericolosa di Farage, è più pericolosa, perché sembra innocua, ma in realtà dove siamo adesso? A metà del guado o l'Europa si riscatta, si completa e si riforma o potremmo soltanto fallire. Arrestare il processo di integrazione oggi significa avviare il processo di disintegrazione di domani e credo che questa sia la lezione più importante da portare dalla Brexit. C'è solo una nota positiva a tutta questa debacle, che da oggi Nigel Farage è disoccupato, fuori dal Parlamento Europeo e da lunedì Sandro Gozzi sarà nel Parlamento Europeo insieme a Nicola Danti, come tra l'altro faceva notare stamattina Tony Blair in un suo tweet che si congratulava con l'elezione di Sandro. Io finisco facendo gli auguri al Regno Unito, un paese che ammiriamo per la sua sete di futuro, il suo dinamismo, la sua cultura aperta, lo ringraziamo per le tante opportunità che sta dando a oltre 700 mila italiani in quel paese, ai 3 milioni di europei che ci abitano, grazie davvero, ma a me piace pensare che sia un arrivederci e non un addio. Non soltanto, come ha detto Matteo, perché nel lungo termine non riusciranno ad assicurare una prosperità maggiore al loro popolo, questo è soltanto una questione di attendere, il tempo è galantuomo, ma anche perché confido nei milioni di giovani britannici che hanno votato contro la Brexit, che oggi sono minoranza ma domani saranno maggioranza.